Io vorrei fare innanzitutto, ringrazio per questa tavola rotonda, vorrei iniziare intanto specificando cosa si intende per mistica e cosa è la musica, è già stato detto per Lutero, ma qualche parolina in più forse merita anche questo mio intervento sulla musica. Allora, intanto il termine mistica, anche quello di spiritualità in ambito protestante per secoli, ha avuto, diremmo così, una sorta di accantonamento, soprattutto in molta parte del protestantesimo. E qui voglio dire, faccio capo a quanto scrive uno degli autori più accreditati oggi sulla mistica e spiritualità in ambito protestante, Zimmerling, Peter Zimmerling, vescovo di Lipsia. Ebbene, per mistica in sostanza si è inteso per secoli in ambito soprattutto riformato, cioè calvinista, che mistica è un termine prettamente cattolico e ricorda esperienze praticamente cattoliche. Mentre invece l'ambito protestante si rifà più a una compenetrazione nel contenuto teologico eccetera. Mentre invece un cambiamento è avvenuto proprio con il Vaticano, cioè il Vaticano II, con l'ambiente ecumenico dell'ultimo secolo, dove ci si è compresi un po' di più anche che cosa si intende per mistica in ambito cattolico. E oggi potremmo vedere anche nella stampa più, voglio dire, popolare, come la rivista Riforma, come ci sia un richiamo a penetrare nella fonte mistica della propria fede, perché così si apprezzerà la fonte della fede degli altri e si può penetrare nel profondo del mistero di Cristo. Allora, cosa si intende in ambito protestante oggi potremmo dire per mistica? Per mistica si intende una, potremmo dire, una cognizio dei experientialis, cioè è un rapporto profondo con Dio sperimentato dal credente. Dunque è una conoscenza avvenuta attraverso un'esperienza di fede. C'è da sottolineare, e qui è il cambiamento, Lutero in effetti amava ma era guardingo rispetto alla mistica che in effetti proveniva anche dal Medioevo. Cioè Dionigi la Riophagita vedeva nella mistica, chiedo scusa, una possibilità dell'uomo di arrivare a Dio e quindi un'elaborazione razionale, mentre invece altri propongono la mistica come un tentativo ascetico dell'uomo di arrivare a Dio. Questo per Lutero era impossibile accettarlo. Allora si è scoperto attraverso gli studi, in sostanza negli anni Sessanta del Novecento, faccio capo ad Obermann, a Iserlo, i quali approfondendo gli studi su Lutero determinano che in Lutero c'è una mistica, ma c'è una nuova concezione della mistica che equivale, diremmo così, non a uno sforzo dell'uomo ma a un intervento di Dio nella storia di fede del credente. Cioè in altri termini la mistica ha un carattere discendente, non ascendente. E quindi l'iniziativa è di Dio e arriva all'uomo, all'uomo e lo coinvolge nell'esperienza totalmente, cioè lo prende anima e corpo e spirito pure. Cioè in altri termini è un'esperienza esistenziale con tutto il suo essere, anche con quello emotivo. Allora le emozioni, le emozioni vengono considerate come espressioni della fede, perché sono al centro dell'incontro dell'essere umano e Dio, perché Dio ci incontra nella nostra umanità. E qui mi rifaccio a Moltman, Moltman che scrive questo bellissimo libro dello spirito della vita, in cui egli sottolinea come la mistica sia un'esperienza intensa di Dio che facciamo nella fede e allora anche alla dimensione più profonda di ogni esperienza di fede. Dunque la fede, non la conoscenza razionale, la pietas, non l'erudizio, il cuore e non la testa ci fa fare un'esperienza di fede. Ma la fede, o meglio la mistica, non è solo visioni, ascolti, elevazioni mistiche, ma è soprattutto esperienza dell'umiliazione, della sofferenza e della croce, come sottolineava Lutero. A parte di Lutero, o meglio Lutero stesso, sottolinea come l'esperienza di fede sia un'unione con Dio e quindi la libertà del cristiano ci ricorda come tra il credente e Cristo ci sia questo mistico matrimonio, un felice scambio di doni in cui naturalmente il credente dona o passa a Cristo tutte le sue difficoltà, le sue sofferenze, il suo peccato, la sua fragilità e Cristo invece gli dona la sua grazia, il suo perdono, la salvezza, la consolazione, la gioia. Dunque chi agisce in questa esperienza agisce naturalmente lo Spirito Santo, lo Spirito Santo che interviene attraverso, anche assieme alla parola, in un rapporto che non è intellettualistico, ma è onnicomprensivo della persona dell'uomo. Dunque l'azione dello Spirito Santo può avere dimensioni anche non verbali, non è legato solo alla parola, non è solo di carattere intellettuale, ma emozionale e qui c'entra molto anche la musica. La musica potremmo dire che anche essa è stata negletta nel mondo protestante, perché tutti voi sapete che il mondo riformato, faccio allusione a Zwingli e a Calvino, hanno molto messo nell'angolo la musica. Zwingli voleva che non ci fosse per niente l'organo, anzi si doveva cantare, diremmo così, senza musica, mentre Calvino l'ha riservata alla musica solo come accompagnamento dei canti. Ma chi gli ha dato appunto spessore, voglio dire, potremmo dire ontologico in questo caso, alla musica è stato Lutero che la considerava la regina delle arti e la frau musica, che è meritevole di stare accanto alla teologia per parlare di Dio. Ebbene, qual è l'effetto, qual è l'efficacia della musica? E c'è tutto veramente, potremmo dire, una possibilità, diremmo, di fare un trattato sulla musica con Lutero. Perché egli dice che la musica ha molteplici effetti, è stato richiamato il tema della gioia, è vero, ma scaccia anche il demonio, prepara una gioia innocente, scaccia via l'ira, le bramosie, la superbia, dà pace agli uomini e agli animi, e dove c'è la musica c'è anche la pace. Non si fa la guerra, laddove c'è la musica si pensa piuttosto a danzare e a esprimere la propria gioia. E si diceva già che è opera di Dio. E dunque tutto ciò che esiste al mondo porta in sé suoni che sanno di melodia, talvolta anche di armonia. Prendiamo il canto degli uccelli, dice Lutero, il soffio, l'alito del vento, è musica. Il creato esprime musica. Si tratta dell'espressione della mano creatrice di Dio. La musica dunque è incorporata nella creazione e la teologia che esprime anche il creatore è, diremmo così, accanto alla musica e la musica accanto alla teologia. E dunque la musica diventa l'organo di cui si serve lo Spirito Santo per agire nel cuore degli uomini. È un mezzo mediante il quale Dio ha predicato l'Evangelo e lo strumento adoperato dallo Spirito Santo per toccare e smuovere i cuori e prepararli all'ascolto della parola, all'annuncio e dunque alla fede, al rapporto con Dio. Dunque mi pare chiaro da quanto, almeno a me, da quanto viene espresso qui, che la musica ha dunque un carattere spirituale, un carattere mistico. E Lutero è estremamente forte. E Lutero ha esercitato, ha espresso quella famosa rivoluzione musicale e liturgica di cui già si parlava, più o meno accennando la professoressa Elena. Lutero ha operato una rivoluzione perché ha messo il canto al centro, potremmo dire, della vita liturgica, del culto e ne ha fatto un elemento, potremmo dire, importantissimo, centrale, cardine della vita cultuale, ma non usato dalla scuola cantorum, dal coro o dal celebrante, ma dall'assemblea tutta. Dunque, l'assemblea intanto canta. Il canto diventa parte essenziale della liturgia cantata da tutta la comunità. Prima ad una sola voce, poi anche a livello polifonico. Ma è estremamente interessante anche comprendere come la musica, abbia all'interno del culto momenti proprio tutti per sé. Ecco, un culto luterano, per esempio, prevede che ci sia il suono della musica all'ingresso del ministro celebrante, dopo il sermone, durante la raccolta delle offerte, dopo l'amministrazione dell'Eucaristia, alla fine del culto. Il momento del suono dell'organo è un momento di ascolto della musica, come se fosse ascolto e meditazione di quanto si vive durante il culto. Allora, la musica è diventata uno strumento di meditazione, di preghiera, finalizzato proprio ad entrare in sintonia d'animo con Dio. Chiedo scusa a Don Marco se possiamo mettere il primo brano, quello di Bach. Allora, un esempio è proprio la musica di Bach. La musica strumentale di Bach ha un carattere di annuncio, ha un linguaggio della fede. Allora, ascoltiamo adesso la cantata 82, proprio l'inizio, laddove possiamo cogliere questa simbiosi tra musica e canto e quanto la musica esprima ciò che poi dirà anche il canto. Sentiamo, sono due minuti. La musica strumentale di Bach La musica strumentale di Bach La musica strumentale di Bach Per chi già conosce Bach e le cantate di Bach non ci sarebbe bisogno di dire che qui La cantata 82 ricorda e celebra la purificazione di Maria al Tempio. E qui si incontra alla presentazione di Gesù anche al Tempio il beato Simeone che naturalmente appena riesce a vedere il Cristo e a prendere fra le braccia e rompe in questo canto del nunc dimittis, ora lascia un signore che il tuo servo vada in pace. Ed è la prima strofa di questa, l'aria, la prima aria che noi abbiamo ascoltato della cantata 82, suona in questo modo, tradotto in italiano, sapete benissimo che non sempre si è felici nella traduzione. E quanto mi basta! Ecco, l'aria è cantata dal basso, tutti sanno che il basso è la voce per eccellenza perché è espressione dell'umiltà, dell'implorazione, è al compito di onorare Dio e di ricercare Dio, è l'espressione della fede. E allora tutta l'aria, ma anche le altre due, esprimono quasi un piano sempre e che sono quasi un sussurro accompagnato dal lobo e dagli violini per esplorre una melodia carica di nostalgia. E noi sentiamo veramente questa sottile malinconia. Ebbene, come finisce la cantata? Finisce poi con un grido di trionfo, un fuoco di gioia. Mi rallegro della mia morte, ha potesse essersi compiuta, allora sfuggirei ad ogni miseria che mi tiene ancora legato al mondo. Che cosa allora ci fa vivere? Bach vuole far vivere nella cantata proprio questo annuncio, l'annuncio che il Salvatore è la pienezza nella fede per cui tutto il credente aspira completamente all'unione con Cristo. E mi sembra che in questo modo l'animo dell'ascoltatore colga il legame espresso in queste opere musicali tra vita e fede, tra vita quotidiana e spiritualità. E Bach ne è uno veramente dei più, ormai è l'apice di questa espressione mistica in ambito protestante. Tuttavia parlavamo di canto e allora è interessante, come dicevo prima, cogliere questo canto all'interno della liturgia, ma anche, diremmo così, al di fuori della liturgia. Perché il canto diventa in ambito protestante esso stesso, soprattutto negli ultimi tempi, un momento di celebrazione esso stesso o di rappresentazione dell'annuncio che viene espresso con il canto stesso. Possiamo vedere, Don Marco, il secondo canto. Nun freut euch, liebe Christen Gmein. Nun freut euch, liebe Christen Gmein, und lasst uns fröhlich springen, che ciò che vi aggare a tutti, che ciò che si trovi in un'annuncio che è stato un'annuncio che la vita e che è stata un'annuncio che è stato un'annuncio che è stato un'annuncio che è stato un'annuncio. Grazie a tutti E' un canto composto da Lutero, la cui traduzione italiana è questa Rallegratevi ora, miei cari cristiani, ha invitato a fare il cantore e prosegue il canto, quello che ha cantato lui Rallegratevi e con gioia intrecciamo le danze Fiduciosi e tutti uniti cantiamo con le tizie ed amore ciò che Dio ha fatto per noi il suo dolce miracolo che egli ha pagato a caro prezzo Poi avete visto tutta l'assemblea che ha cantato Era un momento anche ecumenico laddove c'è in effetti il Cristo che poi ricorda che il Padre lo ha mandato e lo ha invitato ad annunciare la buona novella Ora, il canto richiama tutta la comunità a vivere con gioia il messaggio ricevuto il messaggio di salvezza ricevuto dal Cristo e a animare le danze esprimendo inni di gioia e di gratitudine al Signore per quanto ha fatto chiamandoli alla salvezza, alla liberazione dalla disperazione per la propria indegnità e incapacità umana di raggiungere il compiacimento di Dio E dunque il canto ripercorre l'opera di redenzione del Cristo e il mandato anche che egli ha dato ad ogni credente e tutta la comunità di diffondere l'Evangelo affinché il regno di Dio si estenda nel mondo la musica è gioiosa e quindi potremmo dire il momento mistico non è solo quello dell'intimità, della riservatezza con Dio ma è anche l'espressione del credente della comunità tutta di ciò che è capitato nella propria vita, nella propria esperienza di fede e vorrei adesso farvi sentire un altro canto che è famosissimo e cantiamo anche noi cattolici quello di Paul Gerhardt, un capo insanguinato che noi tutti, ripeto, conosciamo ma è che veramente raggiunge forse l'apice del canto proprio mistico che intercorre e quindi la relazione che intercorre tra l'anima e il Cristo possiamo sentire per favore grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti è un corale potremmo dire medievale è un lead medievale che viene ripreso da Gerhardt e reso più emozionale, più intimo, più soggettivo poi con l'armonizzazione di Bach e veramente diventa un canto d'amore potremmo dire di una tale bellezza poetica e musicale da esprimere la quintessenza della spiritualità della croce di Lutero sapete che sono dieci lunghe strofe che veramente fanno comprendere quanto ci sia un dialogo di intimità tra il credente e il crocifisso il credente che si rivolge al Cristo crocifisso diremmo che esprime tutta la sua compassione con il Cristo che ha donato la vita sulla croce diventa un realistico annuncio del canto Gesù ha sofferto il dolore e la morte come ogni altro uomo la morte fa parte indissolubilmente della vita umana nella quarta strofa segue un'identificazione dell'io che canta con il morente in croce e poi in seguito è il Cristo che si rivolge al credente e gli dà consolazione e finisce in sostanza dalla nuova strofa in poi si fa un passo in avanti il morente non viene posto più per sempre sulla croce dice espressamente quando io devo partire da questa vita e ha il coraggio di dire quando nella morte deve separarsi dagli altri uomini Gesù non lo lascerà ma lo incontrerà perché Gesù ha percorso prima di lui il cammino della morte e ha sofferto anche l'angoscia e la pena della morte per questo comprende il morente in sostanza l'esperienza di morte vissuta da Gesù si ripresenta nella fede mistica del credente riformato come certezza della vicinanza e della partecipazione di Gesù alla propria morte l'ultimo canto che vi vorrei far sentire lo si canta moltissimo nelle chiese protestanti anche qui a Gorizia lo si canta alla fine del culto ed è un canto dell'ottocento siamo in epoca del risveglio veramente il canto che resta con me signore è di un anglicano che in sostanza risente anche il tempo o meglio la spiritualità del risveglio l'autore Light compose questo inno in un momento in cui era malato di tubercolosi e stava avvicinandosi alla morte è quasi un suo testamento di morte ma si ispira all'episodio dei discepoli di Emmaus e traduce al singolare ciò che è detto dai discepoli al plurale e viene fuori veramente una singolare implorazione che sa veramente di qualcosa di mistico perché il credente anche se canta tutta l'assemblea viene coinvolto profondamente e al calar della sera come al calar della vita egli non è preso dall'angoscia avverte la sua debolezza avverte il dramma della morte e della vita ma sente anche la vicinanza e la forza del suo signore possiamo sentirlo? grazie a tutti 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 suscita in chi canta come in chi ascolta un'emozione di tristezza si ma ad un tempo un sentimento di serenità e di abbandono e questa l'esperienza mistica che propone diremo così l'anima protestante grazie mille